salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi ce ne andiamo a fare un bel giretto a viterbo giusto così per per far sciogliere un pochino la moto quindi andiamo a fare un bel giretto tranquillo nei prezzi di viterbo ci facciamo la strada cimina tanto questa qui davanti non sa manco lei quello che deve fa se è incollata al marciapiede ne so andiamo bene a gommi sa andiamo proprio bene ho montato le gomme nuove le pirelli rosso 3 e per ora mi trovo veramente molto bene veramente molto molto bene mi piacciono molto adesso vediamo come chilometraggio quanto durano sono passato dalle pirese dalle tallop di 212 a queste vediamo come vanno a livello di chilometraggio le pile e danno ci facevo 4000 km col posteriore era da cambiare l'anteriore ci ho fatto due treni e ancora ce n'aveva e non vediamo queste come vanno andiamo con cautela che qui c'è la gente che nemmeno guarda quindi piano piano eh mancava il pullman no no non marzare la porvere no che l'ho lavata ieri mamma mia che puzza ma che cazzo ci metti dentro sto cosi chi c'è di morti no *** no god please no 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 il gatto questo giro lo sto facendo anche per capire un attimo sto microfono se si riesce a farlo funziona bene perché quando vado sopra una certa velocità si sente dico come se grattiasse come se andasse in saturazione quindi vorrei un attimo capire se è il microfono che fa cagare adesso ci ho messo una spugnetta aggiuntiva intorno per cercare di bypassare il problema del vento però vediamo un attimo se è funzionale o se è proprio un microfono che fa cagare ma comunque ragazze come se Pirelli Rosso 3 sono veramente uno spettacolo ormai belle belle ne piacciono un sacco o 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 mi raccomando cosa importantissima iscrivetevi al canale e mettete like tanto è gratis quindi non vi costa niente ma a me aiuta tantissimo e adesso ci facciamo una sostina al mac che do panino al volo e ce lo portiamo in da house o 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 breccia tensione o 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 c'è sta tutta terra breccia per terra o madonna su quel pezzo ma non so se si vede dal video ma ma proprio sbacchettato ma ha fatto proprio così ma ha fatto carina comunque la voglio tagliare insomma quella nuova veramente fica quella macchinetta e e niente ragazzi dietro sto Mercedes GLE vi saluto sperando che che riuscirete a vedere questo video perché non lo so se mi vuole fancazzare un'altra volta la GoPro o forse invece mi grazia e mi fa passare il video quindi se vedrete il video è andato tutto a buon fine altrimenti stavo a parlare da solo ragazzi vi saluto vi ricordo di mettere like iscrivervi al canale tanto è gratis ragazzi mi aiutate a supportare il canale e comunque a farmi capire che vi piacciono questo tipo di contenuti quindi alla prossima e ciao 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 ciao